Ciao a tutti mellonin, io sono Steffi Liff e lei è Lulu e questo è il mio canale. Se volete immagervi in un mondo tutto fantasy ed esoterico, questo è il posto giusto che fa per voi. Di tanto in tanto parleremo anche di problemi di vita quotidiana per cercare di affrontarli assieme e non farvi sentire da soli. Quindi spero che riusciate a trovare un po' di sostegno e soprattutto di farvi sentire meno da soli possibili. E spero che riusciate anche a divertirvi e a trovare gli argomenti che tratteremo interessati. Spero di rivedervi presto e buona vita a tutti!